Ben trovati da Andrea Lazzara con le previsioni del tempo di Arpala. Un giovedì all'insegna della variabilità seguirà un lento ritorno a condizioni di tempo stabile con cielo e prevalenza soleggiato, isolati rovesci nell'entroterra venerdì, sole e rari piovaschi sabato. Da domenica cielo sereno e temperature in deciso aumento. Il dettaglio oggi, giovedì 18 luglio, la nostra regione è investita da correnti umide e debolmente instabili di origine atlantica che portano nubi irregolari a tratti consistenti sul centro ponente mentre a Levante prevarrà il sole. Le nubi potranno essere associate a rovescio temporali moderati soprattutto nell'entroterra nelle ore centrali. 20 deboli orientali in calo fino a calmi con brezze sulle coste. Mare poco mosso, umidità su valori medio-alti, temperature massime stazionarie lungo la costa tra 26 e 30 gradi nelle zone interne tra 25 e 28 gradi. Domani, venerdì 19 luglio, una lenta rimonta dell'alta pressione favorirà il ritorno a condizioni di tempo stabile. Giornata in prevalenza soleggiata con addensamenti in mattinata più persistenti sul centro ponente e cumuli pomeridiani sui rilievi. Non si escludono isolati rovesci o temporali deboli o al più moderati. Venti calmi o deboli in prevalenza orientali, brezze lungo le coste, mare poco mosso, umidità su valori medi, temperature minime in diminuzione lungo la costa tra 18 e 22 gradi nell'interno tra 13 e 19 gradi, massime in aumento lungo la costa tra 27 e 31 gradi nelle zone interne tra 25 e 29 gradi. Dopodomani, sabato 20 luglio, l'alta pressione si consolida ma permane un flusso umido nei bassi strati che porta modesti addensamenti lungo le coste e cumuli a evoluzione di urna sui rilievi dove saranno possibili isolati piovaschi. Nel pomeriggio deboli e temporanei velature dovute al transito di nubi alte. Venti calmi o deboli in prevalenza orientali, brezze lungo le coste, mare poco mosso, umidità su valori medi, temperature minime stazionarie lungo la costa tra 18 e 20 gradi nell'interno tra 13 e 19 gradi, massime in aumento lungo la costa tra 27 e 32 gradi nelle zone interne tra 26 e 30 gradi. E' tutto, seguite gli aggiornamenti sul sito www.arpal.gov.it e sulla pagina facebook di Arpal. Risentirci!